Giusto ieri c'è la notizia ANSA che rende noto che una deliberazione dell'Unione Europea ha detto una cosa molto chiara che va nella direzione che noi auspichiamo da tempo, ovvero che l'Europa deve incamminarsi sempre più verso un'economia circolare, ovvero quelli che sono gli scarti di un processo produttivo devono diventare materia prima per ulteriori processi produttivi, questo di fatto vuol dire eliminare lo stesso concetto di rifiuto, perché in Europa non ci sono più miniere, la vera miniera sono le miniere urbane, sono i giacimenti urbani, quelli che noi ancora oggi in maniera erronea continuiamo a chiamare rifiuti, noi siamo qui per questo, la cosa per noi deve partire con la chiusura degli inceneritori di Bustorsizio e la realizzazione in quel luogo di una fabbrica di materiali, ovvero del recupero totale della materia, questa non è una questione puramente localistica, ma questo vuol dire iniziare ad aprire un nuovo capitolo nella storia del ciclo dei rifiuti in Lombardia, siamo che per Grazie a tutti.